...devole essere fatte. Allora, non puoi dire non vedi, beh, perché la convocazione di capigruppo, così come è stata fatta, è tanto di non esserci. Va bene? Va bene? Benissimo. Perché c'è scritto, sempre visto che ti ami il regolamento e ti dico a leggere, perché forse in mezzo non so, cosa c'è scritto? È un risultato, il quale può convocarci, non devi convocarci. Allora, può, puoi fare o non fare, ma se lo vuoi fare la fai in maniera formale, se non lo fai, dico bene, si tratta. E non lo facevi, certo. No, non dica ovviamente così come a condicendenza, è così, e mi piacerebbe che si dicesse sì sì o no, come mi piacerebbe che le convocazioni, visto che a suo tempo si diceva che quando venivano convocati in orario inconfacente al personale, si diceva che era per evitare l'edilizio della gente, venissero confercati in agroli adeguati per permettere alla gente, poi stasera con il ritardo ci siamo. Ma ne parleremo nel prossimo punto. Senti Presidente, una sola cosa, la delibera di stasera dice che è una delibera di data, giusto? Quindi non possiamo portare modifiche dal punto di vista del contenuto in se stesso della delibera. Il sindaco dice che noi facciamo una proposta di emendamento che deve avere un carattere di, come si dice, incipit politico da accompagnare da questa cosa. Allora, non modifichiamo la convenzione. Non modifichiamo la convenzione, ma nella nostra convenzione facciamo una sorta di incipit politico. No, ma noi approviamo la convenzione che è quella che è la delibera dice altre cose, è integrata, è stata integrata in ogni altra cosa. La proposta di delibera, c'è la delibera, la convenzione rimane inutata. La nostra proposta di delibera viene modificata, è un incipit politico, chiaro io, con un iniziazione, tipo politico, che condivido, volevo anche dire, questo, va bene perché dici che sostanzialmente si vuole che far sì che il concetto dell'elaborazione del piano tariffare, delle tariffe, giusto, rimanga ancora sul territorio. Perché, se non ricordo male, Presidente, giusto, noi paghiamo l'acqua a Nogara, tenendo conto di pagarla anche a metro cubo per quelli della lessigna, che ne sono forvisti, dico bene, sulla base di una media ponderata. Sì, in realtà dall'anno scorso si è arrivata una tariffa unica, due euro di gestione, e quindi è impostato proprio come ragionamento legislativo di base i principi di subsidiarietà nel senso del territorio, paga la bolletta, e poi dopo, sulla base dell'indicazione del piano l'ambito, le priorità che l'atto dà, l'abbiamo scritto, adesso ad esempio, di portare l'acqua potabile a Nogara e a Gazzo, di continuare l'azione per la sua depurazione, perché abbiamo una scadenza nel 2015 dalla comunità europea che obbliga gli stati ad avere tutti gli agglomerati urbani collegati almeno al 95%, quindi se i piani operativi poi che arrivano rispondono a queste direttive, noi approviamo e viene approvata anche la tariffa, attraverso degli scontri anche abbastanza stivolosi, perché ovviamente la società di gestione vuole di più. Noi stiamo ovviamente dalla parte del territorio, dei cittadini, perché noi abbiamo anche istituzionalmente, il comitato degli utenti all'interno del lato con il quale ci confrontiamo, e quindi dopo aver sentito la società di gestione ci confrontiamo con il comitato degli utenti e cerchiamo di capire qual è il necessario per poter dare quell'aumento tariffario, che ricordo comunque è programmato anche dalla curva del piano d'ambito dell'evoluzione tariffaria, in maniera tale che quello che si dà il più di questi richiedi ai cittadini abbia un riscontro con i termini di servizio. In tutti questi anni, insomma, io sono arrivato, possiamo anche raccogliere parte del lavoro degli altri, siamo riusciti a mantenere un livello tariffario, insomma, modesto e molto più basso rispetto a quelli che erano le versioni del piano d'ambito, pur garantendo che tutti questi anni ci anticipano gli investimenti. E' chiaro che se la società di gestione arriva e dice come sta succedendo, lo vedete sulle molette dell'energia di tutti quanti, anche la componente A3, quella che sostiene le rinnovabili, è esplosa e quindi l'anno scorso hanno avuto un aumento di 1.500.000 euro a quei mesi rispetto ai 15.000 euro che pagano di energia a migliorare e in questo bisogna riconoscere. Hanno avuto poi dopo anche la rinegoziazione contratuale, il nuovo contratto di lavoro, e quindi si è dovuto riconoscere le maggiori spese di personale. Sulle altre cose invece siamo dati da fare le pulci, quindi gli erogini che sono stati, sono stati in linea tra i 3,5% che era più o meno quello che era il posto dell'inflazione. Il comune interessava, non è mutato comunque l'esistenza, è sempre la tariffa unica, tiene conto di tutto l'ambito, giusto che si vada dal gatto veronese fino a su a su chiesa nuova, esclusi giusto i comuni dell'anno che hanno una loro piccola autorità in ragione delle caratteristiche. quindi devo dire che l'enunciato si vuole correre o condivido una misura in cui, giustamente, essendo noi zona notoriamente ricavata, anche se incominata dall'arsenco e da quant'altro nelle faglie, questa è la verità, possiamo avere la facoltà di poter controllare nella gestione e nella lavorazione della tariffa unica quelli che ne possono essere ricordi, perché la provincia è grande e con situazioni differenziate. Anche la lesigna, non è meglio perché si pensa, l'acqua non è antico bene o ne ha pocci. Quindi, ecco, questo è il discorso. Quindi, su questa delibera, su questa approvazione della convenzione, si dice, approviamo la convenzione che da un gruppo di maggioranza propone di fare quell'introduzione profondo come ha fatto. Grazie. Sì, la ringrazio anche io, Presidente, per il tempo, mi ha spiegato. Volevo chiedere una cosa, siccome è un... Qua si parla di atto in un... Ah, intanto una cosa. A noi c'è un momento di tutto, quando ci siamo arrivati 2-3 minuti in ritardo. Mi scuso se la prendio, ora ho ragionamento, ma... Se fosse a te non scusate, meglio... No, 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 perché insomma, a noi ci hanno detto di tutto per 3 minuti. Sanna e a Barsano, ad alcuni versioni, insomma, sostanzialmente. E insomma, vuol dire, hanno scritto su Facebook che il treno è un anno passa, passa, era un anno che mi metti tempo da perdere, insomma, ma ecco, poi il treno è... Il treno è in ritardo di 25 minuti, voglio dire, va bene, segretario si è scusato ci mancherebbe nessun problema il traffico è sempre tanto quindi lo so, ha ragione lei però insomma, a noi ci hanno detto di tutto per due mili e mezzo no, no, non dico niente segretario, sindaco voglio dire che ha ragione Poliviero che un colpo cuore il cano un colpo cuore l'euro come dice il 1990 noi ce l'avamo non c'erano mai di voi c'erano sbagli sempre certo, sbaglio sempre sì, sbaglio sempre noi abbiamo atteso comunque è lo stesso in un articolo dell'arena dell'anno scorso signor Presidente c'è scritto che l'auto stanzia 1 milioni e 440 mila euro per una gara per l'acquedotto questi soldi adesso che l'auto va probabilmente a sparendo cioè, si chiuderà, ci sono ancora? sì, i soldi ci sono ancora nel senso che come dicevo prima noi non abbiamo un'operatività diretta di spendere quei soldi lì facciamo la programmazione e abbiamo approvato anche su nostra comunicazione ma credo che gli amministrazioni lo sappiano anche il lavoro che ho fatto in tal senso abbiamo dato l'indicazione di portare l'acqua potabile a una gara come priorità come così come a gas proprio per la presenza di inquinanti che possono creare dei problemi ovviamente alla salute quindi questi soldi vengono decisi da acqua o spesi da acqua i promesi infatti una delle cose che dicevo prima è che alla fine dell'anno si verifica anche tutto quello che è stato fatto in maniera tale da poter modulare la tariffa dell'anno successivo considerando anche i denari che si sono spesi nell'anno precedente se non si sono soddisfatti quelle che erano le promesse di investimenti fatte quindi se alla fine dell'anno non saranno stati fatti gli investimenti su una gara ovviamente avranno una penalità avrebbero dovuto perché adesso non so quando andrà a finire così ma per fare un nuovo avrebbero dovuto avere una penalità in tal senso io ritengo che comunque i lavori per dotare di acqua potabile il comune di una gara stiano procedendo almeno ho queste informazioni qua insomma abbiamo una problematica grande qua nel paese dove se troviamo acqua purtroppo come detto bene non è buona perché abbiamo questo un problema gli investimenti devono essere fatti assolutamente perché appunto scuole e bimbi hanno acqua potabile se è contante di cartello è una roba vergognosa che cosa può andare abbiamo una corrispondenza in tal senso anche con il dirigente dell'U.S. locale insomma la segnalazione abbiamo fatto anche un incontro in maniera tale da rendere tutti i costenti che bisogna intervenire rapidamente su una gara e sull'altro perché non è accettabile che dopo di che bisogna anche dire una cosa per quanto riguarda il discorso gli investimenti per correttezza proprio per effetto di questo principio di sussidiarietà che pone il metodo tra rifario non si può neanche pensare che chi fino magari a qualche anno fa spendere i soldi per fare il palazzetto il capo da caccia che non infrastrutturava il sistema di contegrato adesso possa colmare il capo a scapito degli altri comuni è tutto in un colpo quindi è un processo di passare lo so sono benissimo oltre a 30 anni cioè credo che non sia guardi credo non ci sia forse il Nogà e il Gazzo sono lo so cioè sono delle mosche bianche perché sostanzialmente solo noi siamo tornati da comuni con l'acquedotto sanguinetto addirittura con ferraro tutti ce l'hanno noi no anzi più che noi abbiamo come le ripeto un grossissimo problema di arsenico e i bambini tutti i giorni manosmola con una bottiglietta d'acqua a mezzo litro io la bimba che fa la quarta e tutti i giorni gli do questa allora qua non è che sì solo l'acqua qua c'è una condizione continua di rifiuti e quindi ecco c'è tutto un meccanismo io ho piacere che ha citato il forum dell'acqua perché il Movimento 5 Stelle è per l'acqua pubblica quindi nessun problema anzi noi abbiamo anche una quattro le firme per il referendum quindi bene in referenda e quindi insomma ho piacere che l'abbia detto spero veramente che questi milioni e quattrocento e quarantamila vanno a compimento in tre anni come dice l'articolo e che finalmente venga portata l'acqua potabile almeno alle scuole dove c'è il nostro futuro infatti la priorità mi pare che fosse la spesa di 200 a 140 200 mila euro per un anno l'acqua potabile fino alle scuole al municipio a scuole e dovrebbe essere dentro la fine di quest'anno e teoricamente lo possiamo già stare poi domande a ottobre io penso io cantiere in giro non le vedo dopo lo so se magari vedo solo due miei no infatti no no perché è in alto questo è il problema allora se posso intervenire vorrei ringraziare intanto il professor Martelli per essere venuto questa sera in supporto a questo punto che è comunque importantissimo ma e diciamo così prese al fianco anche a qualche interpretazioni negative purtroppo il problema dell'acqua è un paese che non sono allogato ma è esteso chiaramente in tutte le province e poi anche a livello nazionale noi nel nostro piccolo con l'aiuto di grande aiuto dell'atto in questo caso appunto con l'anno presentato dal presidente del suo direttore Luizani Luizano ha dato diciamo un input l'anno scorso abbiamo insediato a proseguire con la linea dell'antodotto che viene da Montalto e proseguire verso il centro e andare verso le scuole medie elementari questo sono i 200 distanziamenti previsti per quest'anno oggi stesso sono iniziati i lavori presso il Montalto forse negli avisti perché chiaramente la strada che stanno percorrendo è quello di Montalto hanno aperto hanno guardato in che condizioni ci sono le condutture c'era un piccolo addomante che guardava diciamo così dove scuoleva l'acqua anche sul fonte del Tartaro e sono arrivati fino al centro di Lugara stanno vedendo di mettere in pressione a strada diciamo così le varie condutture perché chiaramente andranno a riutilizzare le vecchie condutture che sono già posate su Lugara dobbiamo ripercorrere anche un po' la storia perché sarebbe riduttivo dire che Lugara è l'ultimo paese diciamo così essendo ragazzi della provincia di Verona per quanto riguarda Lugara ricordiamo che Lugara è stata una delle prime cose che avevano i primi anni fa che hanno gara erano state fatte più denti sì ma è giusto sbordarlo che non va perché la linea dell'Apredotto c'è allo gare purtroppo ci sono i miei funghi se noi veniamo all'Apredotto purtroppo quel tempo essendo così vecchio il discorso ha avuto altre limitazioni cioè non è più stato necessario per esempio e ricordo anche Lugara che allora era sindaco avevano tenuto delle porzioni di terreno no? sotto appunto i grumi dell'Apredotto anche per depurare l'acqua cosa che poi non è più stata necessaria perché è inutile anche il fungo ormai si era detto che la linea dell'acqua doveva arrivare a questo vento l'albo muove adesso dovrà arrivare invece da isolare la scala cioè ci sono anche gli inutamenti purtroppo passando il tempo che da un lato rendono inazibili le vecchie linee perché voi sapete che è stato provato ha provato per pressione le vecchie linee e la pelota e purtroppo ha fatto scusate il gioco di parole acqua da tutte le parti anziché scorrere solamente nel tubo scorreva la per tutto ma non nel tubo quindi alla fine abbiamo una rete idrica qui all'ogara sotterranea che purtroppo è al 90% o secondi più inutilizzata c'è questo procedimento in corso che farà arrivare l'acqua da dei pozzi di Isola Scala che però andranno a rifornire anche Erbe e altri paesi che trovano sul territorio ebbene l'acqua ai due pozzi non è forse sufficiente per dare acqua a l'ogara e a gas quindi quindi abbiamo anche il problema di fare pozzi in uomo però diciamo così che per il primo patto quello che appunto interessa la zona di Montalto il centro passando appunto per questa via davanti al comune qualcuno con selvino e poi proseguendo verso le suole lo stanziamento è diciamo così in fase di realizzazione e oggi stesso quindi da un annuncio sono iniziati questi tipi di lavoro si tratta di mettere quindi di pressione di vedere se le vigne vengono di vedere dove vanno cambiati gli innesti delle valvole quindi saranno cambiati il percorso e poi si faranno le prove con i bar sufficienti per poter trasportare l'arco all'interno della zona è chiaro che non è tutto sbagliato però mi dicevo giustamente il consigliere Mirko il mio mio è una scuola produttiva dell'altro è una cosa da tarsi al mondo o anche da parte su questo noi ci siamo mossi ci stiamo muovendo io su questo ricordo che l'attedotto per la gara è una priorità saranno priorità adesso e anche in futuro perché ci saranno ancora degli anni per fare questo tipo di battaglia abbiamo avuto il nostro piano il nostro amico Martelli che potrebbe essere sull'estimento dell'AFA preso a cuore la vicenda dell'Arsenico e quindi ha fatto una battaglia anche all'interno del suo ente per poter accedere a questi diciamo di rinanziamenti ricordiamo anche che Arco Eurovese è il braccio operativo e quindi alla fine se chiede 22 milioni di euro che sembra che abbia chiesto inizio altro per fare tutti i vari lavori sul territorio e se le banche poi rispondono a 15 milioni di euro vuol dire che le tanti lavori non le hanno fatte hanno gara questi lavori appena quello che abbiamo chiesto per prestare non le hanno fatte oltre a questo ci sarà anche in previsione un avviamento del regolatore perché sapete che anche il sistema croniano che oltre a quello del previsionamento idrico ha molte falle a una gara siamo un'idea di esistere anche da quel punto di vista e quindi dobbiamo diciamo così combattere una battaglia sia per il previsionamento idrico sia per poi la depurazione successiva quindi io ti ringrazio ultimamente mi dispiazza solamente che Martelli abbia saremo contenti nella battaglia che vai a prendere anche con me personalmente se vuoi parlare anche a nome di tanti agremizi mi dispiazza però non avere più un amico Martelli alla presidenza che a noi sinceramente lo facciamo a comodo perché è una persona come si è espresso anche questa sera che sia capibile da tutti competente con la gran guada di fare politica diciamo con lì sul territorio e non so se al suo posto arriverà qualche altro nome mandato dalla regione che sicuramente probabilmente non conosceremo e se sarà all'altezza della presidenza attuale è un cambiamento questo che si sta facendo tra l'altro dei nuovi organismi che non condividono come me non hanno condiviso altre amministrazioni però questa sera ci dobbiamo riunire per portare il punto che chiaramente votiamo con ma in generale l'unica cosa che si passa giusta a livello chiamiamolo qui di maggioranza ma spero che sia condiviso da tutto il gruppo consigliare sono questi punti che stiamo mettendo appunto a integrazione che è quello che almeno le tarifiche di un deciso sul territorio e che almeno comunque ci sia una rappresentanza in grado di dire che comunque dà un bene comune e vogliamo che sia il nostro territorio a decidere le soldi anche per il futuro queste sono piccole cose è chiaro che è un segnale politico è chiaro che è un piccolo segnale però se siamo portati avanti da tutti i comuni della provincia penso che possa essere anche una cosa positiva per il futuro ringrazio io sono d'accordo a quel punto però per quanto pericolata devo assentrarmi dal consiglio perché abbiamo un comitato che sta preparando in maniera attenta e meticolosa rispetto alla testa che adesso noi abbiamo una riunione alle 9 di 10 e alle 9 di 4 io comunque do la mia disponibilità la mia approvazione a queste delibere come alle altre anche se fisicamente non posso essere comunque discorso questo questo comunque la provo in un attimo la sua mi fa piacere frate che sei dalla parte dell'acqua pubblica peccato che poi mi voti la casetta dell'acqua a gestione privata allora qua prima metta se d'accordo perché l'acqua pubblica personalmente io ritengo che l'acqua deve essere sempre pubblica e che qua guarda come dicevano che ha raccoglato le firme se non altri ragazzi abbiamo fatto appunto abbiamo dato poi abbiamo anche una stella che parla di acqua quindi come quindi voglio dire adesso tu mi parli che inserisci all'interno un emendamento che non so se ho capito male riguardisci il fatto che l'acqua deve rimuovere pubblico e poi due mesi fa potrei dire se non mi ricordo più no non è perché sono altresetti che non è ascolta secondo ascolta secondo prima adesso mi dici che l'acqua deve rimanere pubblica poi approvi la casetta dell'acqua che la gestirà un privato poi la metti in stand by perché il consorzio fa una gara da parte perché un privato come no come no e poi l'ultimo consiglio me la metti in stand by come la fusione disco perché non sapete che cosa fare se fare perché non vi aspettiamo l'acqua che arrivi senza se teniamo l'acquedotto allora se teniamo l'acquedotto domanda se ha difetto della casa dell'acqua che senso no non mi ha capito perché non si capisce cioè qua non si capisce di cosa su questo fare allora l'acquedotto gli diamo l'acqua alla casa dell'acqua bene però qua non si capisce che cosa fate perché un corpo te la provi dopo te la in stand by dopo te la riprendi adesso che si dalla parte dell'acqua pubblica cioè non si capisce mira ma che la mette ma che è una volta c'è la mette c'è io sono invitato una conversione assoluta voi è vero sei solo te il furdo nessun problema mi sono più da realtà sono più da realtà perfetto io ho capito che manteni era la parte dell'acqua pubblica giusto o no perfetto ho capito che stasera era uguale che si dalla parte dell'acqua pubblica ma invece passato se mi era la parte dell'acqua pubblica il mese scorso voi era parte della parte della casetta dell'acqua fidate al privato questo è la realtà è consorzio ecco è consorzio va bene dico falsità noi diciamo sempre falsità va bene sì perché noi è la no no noi voi la fidate il consorzio il consorzio fa una gara d'appalto è inutile che te dici perché te vuoi dire ma che è così è sfida dal pubblico è sfida dal pubblico sì secondo me la limitatezza è la parte lì perché il generale mi eserisci bene te la provi sì va bene hai ragione te sì guarda mi pericordo cosa è necessario oggi tu dicevi sul peffio cosa dicevi che abbiamo sostituito i serramenti che invece davano fatte l'acqua no io non non ti piace queste cose ah sì pensati pensati invece giudici che non mi piace vado facciamo bene ma diciamo veramente no mi piace mi piace mi piace non mi piace ti fa piacere che vedi di stare su facebook mi fa piacere che vedi di stare su facebook se non sta passendo assolutamente niente del suo pezzo guarda che tempo di farlo di adir a facebook come da parchi mi piace guarda se è forte se è forte se è forte solo una precisazione solo per dire che noi discutiamo il consiglio comunale scorso con il vice sindaco Paglini con 200.000 euro mi fa ricogliere si va a fare l'allacciamento le dorsali che sono venute giù da zona scala non sono state realizzate nel triagno precedente giusto? con l'amministrazione qualcuno teme a negare queste circostanze ho detto la volta scorsa è un progetto che parte da lontano era già in triennale che faceva il 2009-2012 come scrisse anche i giornali fu uno di trottanti poi su Opeano adesso io quello che voglio dire siccome vi ho detto che l'avuto non sono contrario perché proprio avevamo iniziato avevamo lavorato bene allora con l'alto e anche con l'alto l'unica cosa è che se si va a dire che se ci fa un intervento minimale perché comunque l'alto arriva fino a Montalto perché la volta scorsa si disse no 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 abbiamo parlato del prodotto perché io per esempio non l'abbiamo parlato del prodotto mi sembra di aver mai detto non l'abbiamo parlato del prodotto però l'intervento mio di prima era per dirvi che non è che le amministrazioni hanno grado da questa parte e questa parte hanno andorgettato di prova ho fatto degli interventi quello che dici quello è vero per vent'anni frase sì allora mi scolta allora dobbiamo anche internaziare se magari qualche situazione che non ho messo giù magari funziona funziona, perché si andrà ad utilizzare anche vecchie situazioni, quindi è chiaro che le amministrazioni che ci succedono qui portano avanti un discorso comunale, io non ho mai detto che su certi argomenti sia una negazione da parte di chi è ministra, anzi non si farebbe bene pubblico, quindi è chiaro che Polilevici tutto qui è andato del suo meglio per poter portare l'acqua allogata e arriva da una zona che è quella di isola che non era almeno prevista, perché se proprio vogliamo c'è un'altra conduttura che arriva da un nome, per dire che potrà essere mai utilizzata, come potrà essere anche utilizzata, chi lo sa, però l'importante del paese, e lo ribaldisco, è che su questi punti maggioranza e posizione siano d'accordo, perché è un bene che deve obiettare. Siamo in votazione della proposta di delibera con l'integrazione che abbiamo detto, cioè deliberato, quando c'è propone così, non è deliberato con l'altro segno, sono le mani integrali, quindi legato alla convenzione viene approvata integralmente, punto 2, legato sempre per vivere la proposta della convenzione medesima, punto 3, potrebbe portare la responsabilità del senso del successivo di implemento, al punto, chiamiamolo 4 a questo punto, di impegnare il sindaco e delegato per la parte del Consiglio di Vaccina a sostenere, a il divieto di allargare la condizione di internazioni dei privati del servizio idrico integrato per onese, rispetto agli esiti referendari del sull'arco a bene pubblico, via, ma sì che l'allegamento della tariffa rimanga esclusiva la competenza del Consiglio di Vaccina del Tribunale Cominciale, quindi punto 5, dichiarare il provvedimento con sempre la votazione immediatamente eseguiti, questo è deliberato, quindi la prima votazione approva questo, con l'integrazione, non vorevoli, grazie mille a tutti, ciao! Grazie, 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 grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.